Ciao amorosi, oggi con questo breve tutorial voglio rispondere alle tantissime amiche che in questi giorni mi hanno chiesto come poter effettuare un ordine, una registrazione o comunque per poter navigare nel nuovo sito della Tessiland. Innanzitutto andiamo ad aprire una finestra del browser che usiamo di solito, quindi Explorer, Chrome, Firefox, quello che voi utilizzate abitualmente. Andate nella barra degli indirizzi e scrivete www.tessiland.com. Ovviamente a me si apre una tendina perché io ho un sito che frequento molto spesso, però vi basterà appunto andare a scrivere www.tessiland.com. Dopodiché date l'invio e automaticamente verrete reindirizzati nella pagina. Il nuovo sito è veramente molto 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 intuitivo, veloce e davvero divertente da navigare. Partiamo dalla schermata principale, quindi dalla home del sito. In alto avete l'indicazione del numero verde gratuito della Tessiland, dopodiché accanto, sempre nella stessa riga, trovate le due voci accedi o registrati. Qualora aveste ricevuto già l'email della Tessiland e siete già clienti, vi basterà cliccare nel link che vi viene proposto nella stessa email. Tenete presente che siccome i clienti della Tessiland sono veramente tanti, è possibile che ancora non abbiate ricevuto questa email, ma vi arriverà entro breve tempo. Se siete già clienti e registrati, vi basterà cliccare sul tastino accedi. In questo modo si aprirà la schermata dove voi inserirete la vostra email e la password e poi cliccate su accedi ed entrerete in questo modo all'interno del sito. Se invece non siete mai stati clienti o volete comunque registrarvi, lo potete fare cliccando su registrati. Cliccate su registrati, vi si apre questa pagina, metterete qui la spunta sul vostro titolo sociale, il vostro nome, qui il vostro cognome, qui la vostra email e qui la vostra password. Quindi scegliete la password che vorrete utilizzare, poi se volete controllare di averla scritta in modo corretto, cliccate qui su mostra e vi appariranno le lettere che voi avete inserito nella vostra password. Nella parte sottostante e opzionale potrete inserire la vostra data di nascita e se volete ricevere le novità che la Tessiland inserirà all'interno del sito a mano a mano andate ad iscrivervi alla newsletter. In questo modo nella vostra email ogni volta che la Tessiland inserirà delle novità all'interno del sito vi manderà un email. Una volta che avrete terminato di inserire i vostri dati, cliccate su salva e a questo punto siete registrati. Entriamo nel sito adesso e andiamo a vederlo in maniera più approfondita. Innanzitutto vediamo una cosa che nel sito precedente non c'era ed è la lentina, quindi è il motore di ricerca. In questo motore di ricerca noi possiamo inserire le parole chiave relative al prodotto che intendiamo acquistare o che stiamo cercando. Questa però la vedremo meglio dopo. Adesso andiamo a vedere il resto del sito. Qui come in precedenza, quindi nell'altro sito, abbiamo una serie di menu a tendina. Vedete? Cliccando su filati verremo portati nella schermata dove ci sono i filati. Abbiamo i filtri, possiamo andare a cercare per marca, per nome e qui li abbiamo tutti, per colore, per composizione, quindi se vogliamo dell'acrilico, se vogliamo del cotone, se vogliamo del misto cotone, abbiamo qui tutte le varie composizioni, oppure le dimensioni di uncinetto. Quindi a seconda del tipo di lavoro che vogliamo fare noi sappiamo che ci serve un filato da lavorare con l'uncinetto numero uno, abbiamo tutte le dimensioni. Adesso facciamo una prova. Per esempio io voglio un filato da lavorare con l'uncinetto numero uno e mezzo e mi si apre una schermata con tutti i filati che possono essere lavorati con l'uncinetto numero uno e mezzo. Poi sulla sinistra abbiamo anche delle immagini che ci riportano alle novità o i prodotti più venduti e ci danno degli spunti magari in più. Togliamo adesso il flag da questa, quindi togliamo quel filtro e andiamo a cercare, che ne so, sappiamo che vogliamo lavorare con l'Arita Slim e andiamo a cliccare nella casellina accanto a Arita Slim. Andiamo a mettere il flag, ossia la bandierina, clicchiamo e immediatamente la pagina ci riporta tutti gli Arita Slim che sono presenti all'interno del sito. Per rimuovere i filtri basta cliccare e torniamo alla schermata principale che parte in ordine alfabetico, quindi dal primo filato con la A che è la DELE e poi via via, man mano che voi scorrerete la pagina, vi porterà agli altri filati presenti. Qui abbiamo tutti i filati presenti all'interno del sito per qualità, quindi acrilico, bucle, ciniglia, cotone, fantasia, fettuce, filati per ricamo, insomma tutti i filati che sono all'interno del sito. Quindi se noi clicchiamo per esempio su ciniglia immediatamente ci apparirà la sezione dove ci sono tutti i tipi di ciniglia presenti nel sito. Passiamo adesso a tutto borse, noi clicchiamo su tutto borse e abbiamo tutte le sottosezioni nella quale è divisa la sezione borse, quindi anelli per tracolla, catene, clicclac, chiusure, filati, fibbie, fodere, insomma tutto quello che ci occorre per fare le nostre borse. Anche in questo caso ci farà vedere tutto ciò che è all'interno del sito che è relativo appunto alle borse. Ovviamente sono tantissimi gli articoli, quindi sulla sinistra abbiamo tutti i prodotti presenti a seconda di quello che ci occorre e come abbiamo fatto prima per i filati possiamo andare a scegliere in maniera mirata quello che ci serve, il tipo di prodotto, il colore, la composizione del prodotto e le dimensioni dello stesso, nel caso si tratti magari di clicclac o comunque prodotti che abbiano delle misure specifiche. Cliccando per esempio su anelli per tracolla verremo portati subito alla sezione dove ci sono tutti gli anelli per tracolla che sono presenti nel sito. Se vogliamo tornare indietro possiamo tornare indietro sia con la freccetta che cliccando qua sopra, quindi tutto borse, torniamo indietro alla sezione precedente, se clicchiamo su home ritorniamo alla pagina principale del sito. Andiamo a vedere adesso nello specifico il prodotto. Quando noi individuiamo il prodotto che ci occorre, in questo caso per esempio la coda di topo azzurra, noi vediamo dall'immagine che già ci sono alcune specifiche, qui abbiamo il costo, qui abbiamo la disponibilità, quindi i pezzi che sono presenti nel momento in cui noi facciamo l'ordine nel magazzino e poi abbiamo aggiungi. Qui abbiamo la casellina dove possiamo inserire la quantità e la possiamo inserire sia manualmente, quindi andiamo ad evidenziare con il mouse il numero e mettiamo i pezzi che ci occorrono, per esempio a noi ce ne occorrono due. Oppure possiamo farlo con queste due freccette, in questo modo vedete potete inserire la quantità che vi occorre. Se poi voi volete vedere un'anteprima più grande cliccate sull'occhio che vedete qui e vi si apre la pagina con delle informazioni ulteriori, quindi qui vi dice il peso, la lunghezza, l'uncinetto consigliato. Qui abbiamo la possibilità anche di cambiare la rilevanza dei prodotti, in questo caso di default è selezionato dalla A alla Z, quindi in ordine alfabetico, possiamo cambiarlo dalla Z alla A, dal meno caro al più caro o dal più caro al meno caro. Abbiamo moltissime opzioni di scelta, quindi per ogni tipo di prodotto noi abbiamo la sezione e tutte le sottosezioni. La cosa bellissima di questo nuovo sito è questa, che è quella che vi ho fatto vedere subito, ed è il motore di ricerca. Andiamo a vedere come funziona il motore di ricerca. Noi possiamo cercare qualsiasi cosa che ci occorre semplicemente scrivendo il prodotto nella riga di ricerca. Io per esempio so che il nome del prodotto che sto cercando è l'Amanda e vado a scrivere Amanda nel motore di ricerca. Già appena scrivo mi appare subito sotto un menu con l'Amanda, vedete? Qui possiamo cliccare su mostra tutti e 36 prodotti o possiamo cliccare sulla lentina di ingrandimento. Proviamo prima con la lentina di ingrandimento e ci appare la schermata con tutti gli Amanda che sono disponibili. In questo caso il nome è Amanda 5 del prodotto, ma il motore di ricerca lo riconosce anche semplicemente con Amanda, quindi vi basta scrivere il nome del prodotto. Se invece scrivete Amanda, vi si apre la tendina e voi andate a cliccare su mostra tutti e 36 prodotti e praticamente il risultato non cambia. Vi apre nuovamente la schermata con tutti gli Amanda disponibili all'interno del sito e questo vale per tutti i prodotti che sono all'interno del sito. Per esempio noi stiamo cercando un uncinetto, ci basta scrivere uncinetto, vi appare la schermatina iniziale con tutti i 1623 prodotti, cliccando qui vi si apre la schermata con tutti i prodotti, la stessa cosa se cliccate sulla lentina, quindi voi cliccate, ovviamente più prodotti ci sono più tempo ci metterà per caricarli e qui avete tutti gli uncinetti che sono presenti nel sito e andate a fare la vostra scelta. Il motore di ricerca è veramente fantastico, sto cercando un qualcosa in pelle, scrivo pelle e mi appare tutto ciò che è relativo alla pelle, quindi dalla fettuccia, i manici, vedete tutto quello che c'è in pelle all'interno del sito. Oltre al menu a tendina che troviamo nella home page, è il fantastico motore di ricerca che io sono sicura che utilizzerete tantissimo perché di una comodità incredibile, abbiamo comunque anche nella pagina, nella prima pagina, le varie sezioni, quindi arti creative, filati, se per esempio cliccate qui su filati vi si aprirà nuovamente la pagina che abbiamo visto prima. Vediamo adesso velocemente come fare un ordine. Io ho trovato il mio a delle 8, quando noi clicchiamo sul prodotto ci si apre questa pagina, noi abbiamo una lentina passando il mouse sopra il prodotto, vedete si ingrandisce l'immagine e voi riuscite a vedere anche meglio il prodotto se già non lo conoscete. Qui abbiamo il prezzo, abbiamo la composizione, il peso, la lunghezza in metri e i ferri e uncinetto consigliati, la disponibilità degli articoli e adesso poniamo che noi vogliamo comprarci tre gomitoli di a delle 8. Facciamo il numero cliccando sulle freccette oppure scrivendolo come vi ho fatto vedere prima e poi aggiungiamo al carrello. A questo punto vi si apre questa schermata con su scritto prodotto aggiunto al carrello, quanti articoli avete nel carrello e il totale compreso di spese di spedizione. Adesso questo sicuramente, perché siccome questa è una cosa che mi avete già detto, ve la voglio chiarire bene, le spese di spedizione dopo i 19 euro di spesa non ci sono più, quindi quando voi fate il vostro ordine, le spese di spedizione, se superate i 19 euro di spesa non vi verranno accreditate, comunque lo vediamo. Andiamo a spendere 19 euro. Voglio comprarmi questa bellissima patella con le catene e quindi vado a cliccare sulla patella, mi piace, la guardo bene, mi piace, ne voglio una e la aggiungo al carrello. A questo punto io ho già superato i miei 19 euro. Vedete che quando io supero i 19 euro di spesa le spede di spedizione non sono più conteggiate, totale spedizione gratis. Io ho terminato i miei acquisti, ho comprato tutto quello che mi serve, ho messo nel carrello tutto quello che mi serve e procedo con l'ordine. A questo punto mi si aprirà la schermata del carrello con tutti i prodotti che io ho acquistato e qui ho la possibilità di aggiungerli, di toglierli, se ho sbagliato nel cliccare o potete eliminarlo. Cliccando sul cestinetto verrà eliminato il prodotto. Poniamo che io non voglio più la dele, lo elimino e mi rimane la patella. Se avete un codice sconto, lo inserite qui e cliccate aggiungi, procedete con l'ordine, quindi cliccate su procedi con l'ordine e in questo caso avete due modi, potete ordinare anche come ospiti, non è necessario che voi vi registriate. Magari volete provare e testare la qualità della Tessilan e non volete però registrarvi al sito, potete ordinare come ospiti. Cliccate ordina come ospite e andate a compilare i vari campi, quindi il nome, cognome, l'email. Crea un account è opzionale, quindi se non volete registrarvi non create l'account. Qui accedi e andate a scrivere le vostre credenziali, quindi l'email e la vostra password. Se invece non volete registrarvi, cliccate su ordina come ospite e andate ad inserire i dati che vi vengono richiesti. A questo punto cliccate su continua. Però è importante registrarsi per molti motivi, uno dei quali è che voi avete lo storico degli ordini, quindi all'interno della sezione privata del vostro account voi avete tutti gli ordini che avete fatto, quindi le quantità, i colori, tutto quello che avete già ordinato, lo stato degli ordini, quindi se l'ordine è stato spedito, se l'ordine è ancora in magazzino, avete lo storico dei resi, quindi se voi avete fatto dei resi sapete quali resi avete fatto e il buon fine degli stessi. E le liste dei desideri. Noi navighiamo all'interno del sito e vediamo un prodotto che ci interessa, però in questo momento non lo vogliamo acquistare. Allora io clicco sul cuoricino che è posto accanto ad aggiungere il carrello, in questo cuoricino e aggiungo il prodotto alla lista dei desideri. In questo momento io non sono logata, ossia non ho effettuato l'accesso al sito e quindi mi dice che devo effettuare l'accesso per gestire la mia lista dei desideri e questo è un sistema molto molto carino per avere sotto controllo tutto quello che ci interessa. Magari in questo momento noi non vogliamo acquistarlo, però siamo intenzionate ad acquistarlo in un secondo tempo, ecco con la lista dei desideri abbiamo sotto controllo tutto quello che ci piace, tutto quello che ha destato al nostro interesse. Quindi voi avete scelto un prodotto, non vi ricordate che prodotto era, lo avete messo nella lista dei desideri, vi basterà andare a vedere nella lista dei desideri e ritroverete immediatamente il prodotto che vi era piaciuto e che volevate acquistare. E continuo. Adesso qui devo inserire gli indirizzi, ovviamente qui se sono un'azienda metterò il nome dell'azienda, il numero della partita IVA, se non ho un'azienda queste due parti sono da lasciare in bianco, infatti se vedete c'è scritto opzionale, poi metterete l'indirizzo che è quello molto importante, il complemento indirizzo che ne so scala A, scala B oppure citofonare lupo, esempio, il codice avviamento postale, la città, la provincia, la nazione e il vostro numero di telefono. Una volta che abbiamo terminato con la compilazione della parte riguardante nome cognome e indirizzo, clicchiamo su continua. A questo punto abbiamo la scelta del metodo di spedizione. Se noi utilizziamo il corriere espresso standard, è gratuita, quindi non dobbiamo spendere niente e l'evasione dell'ordine avviene in 24-48 ore. Cosa significa? Significa che loro hanno tempo di poter preparare a seconda di quanti ordini hanno da evadere in quel momento entro 24-48 ore dal momento del vostro ordine. Quindi significa che ve lo possono spedire dopo 24-48 ore. Nel caso invece voi vogliate i vostri prodotti velocemente, perché vi servono subito, cliccate su corriere espresso speedy, ossia l'evasione dell'ordine è immediata, quindi una volta che avete fatto l'ordine viene evaso subito, quindi preparato immediatamente. Se voi lo fate quest'ordine entro le 12, viene fatto immediatamente. Se voi lo fate dopo le 12, ovviamente nei tempi utili. Il corriere è fermo opposta e qualora voi non siate sicuri di essere a casa nel momento in cui viene il corriere a consegnarvi il pacco, allora facendo il corriere fermo opposta voi avete la possibilità di andare a ritirare il vostro pacco quando siete disponibili. Qui avete la possibilità di aggiungere delle note all'interno dell'ordine se volete fare qualche comunicazione particolare alla Tessiland e una volta che avrete terminato cliccate su continua. A questo punto avete la sezione di pagamento e potete pagare con il bonifico, con Paypal, che io vi consiglio perché Paypal è veramente fantastico perché in qualora ci fosse qualche problema siete sempre tutelati, potete pagare con la carta di credito o pagare in contanti. Ovviamente il pagamento in contanti, pagamento in contrassegno, ha un costo di 5 euro. A questo punto una volta che io ho scelto il mio metodo di pagamento, accetto i termini del servizio, mi raccomando una volta che voi avrete completato l'ordine non sarà più possibile modificare l'ordine, quindi è importantissimo controllare l'ordine prima di inviarlo. Confermo e completo l'ordine. A quel punto mi arriverà un'email e io non devo far altro che aspettare che arrivi il mio pacco. Vi volevo dire ancora due cose prima di salutarvi. All'interno del sito trovate una chat, quindi se voi cliccate qui, in questa parte, si apre la chat se siamo ovviamente in orario di lavoro. In questo momento non ci sono operatori disponibili. Mettete il vostro nome e l'email, l'oggetto del vostro messaggio e scrivete qui il messaggio e lasciate il messaggio, altrimenti aspettate che ci sia l'operatore disponibile. Di solito sono molto veloci e di una cortesia veramente unica, sono splendidi gli operatori della Tessiland. Qui trovate tutte le informazioni, che magari non vi ho detto all'interno di questo piccolo breve tutorial, comunque qui trovate tutto quello che vi interessa. Il tuo account, quindi qui avete tutto quello che è relativo al vostro account, quindi gli avvisi, le liste desideri, i buoni, gli indirizzi, le note di credito, gli ordini, le restituzioni e le informazioni personali del vostro account. Gli omaggi. Da un po' di tempo Tessiland, ora clicchiamo qui, vedete, trovate comunque tutto quello che io vi sto dicendo, lo trovate comunque ben spiegato all'interno della sezione informazioni. Tempo fa venivano inviati degli omaggi fisici. La Tessiland invece ha pensato di realizzare questa Fidelity Card che è automatica ad ogni registrazione, cioè se voi vi registrate, automaticamente questa Fidelity Card viene generata. È virtuale, ovviamente, non vi verrà inviata nessuna card. È una Fidelity Card virtuale che la Tessiland aggiornerà per voi ogni volta che voi farete un ordine e potrete scegliere voi l'omaggio da ricevere e secondo me è molto interessante come cosa. In ogni ricevuta degli ordini che vi verrà inviata, voi saprete quanto è il punteggio che avrete accumulato. Una volta che avrete accumulato un tot di punti potete fare il vostro ordine che vi verrà inviato gratuitamente, perché questi sono punti spendibili all'interno del sito. Gli step, quindi i passi, sono 3 e sono 30, 50 e 80 punti e questi buoni sono da 30 euro a 100 euro. Per ogni 10 euro che voi spendete vi verrà accreditato su questa Fidelity Card un punto e una volta che avrete accumulato 30, 50 o 80 punti potrete fare un acquisto da 30 euro, da 60 euro o da 100 euro completamente gratuito e questo direi che è veramente molto molto interessante perché ognuno poi sceglierà quale sarà il suo omaggio. Bene, a questo punto io penso di avervi detto tutto quello che vi dovevo dire. Se ho dimenticato qualcosa magari me lo potete chiedere con un commento sotto al video oppure se siete amiche del gruppo di Facebook, gli amici dell'angolo di Chris, me lo potete chiedere anche lì e vi rispondo sempre molto molto volentieri. Adesso non vi rimane che divertirvi a curiosare all'interno del sito della Tessilan. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo tutorial. Bagi!